Musica Amici e amiche di Volonvret, buonasera siamo arrivati alla fine di questo pomeriggio con le nostre amiche che ci hanno fatto vedere ci hanno spiegato, ci hanno parlato a proposito della pet therapy e ora le rivolgeremo qualche domanda breve, cercheremo di essere un po' stringati si è parlato allora dell'apertura di un nuovo centro Villa Lauro, che tipo di proposte che tipi di animali ci sono e cosa proponete in sostanza? Allora noi a settembre apriremo un nuovo centro rivolto a ragazzi con autismo e questa nuova iniziativa sarà rivolta a ragazzi con disturbi pervasivi dello sviluppo che hanno terminato la scuola e che verranno inseriti nel nostro centro che ha un indirizzo diciamo prevalentemente agricolo e al nostro interno ci sono anche attività di pet therapy abbiamo qui i nostri tecnici che portano avanti le attività con gli animali noi abbiamo effettuato un lungo percorso di formazione prima di aprire questo centro intendiamo lavorare con ABA intendiamo lavorare con il metodo TEACH intendiamo mettere tutta la nostra esperienza in campo verso questa nuova apertura del centro grazie mille grazie e ora a voi allora un altro paio di domande come la pet therapy può influire sul benessere delle persone? essenzialmente mettendo a disposizione delle persone la relazione che gli animali sanno dare che sanno stabilire come mediatori di relazione anche poi con altri umani l'animale il cane non giudica per il cane tutte le persone che desiderano avvicinarlo sono assolutamente uguali i nostri cani sono preparati anche per affrontare diversi tipi di disabilità e tutte le età a cui si rivolgono gli interventi assistiti con l'animale ci tengo a precisare che pet therapy è un termine ormai molto diffuso sappiamo tutti è di comune uso però il termine più corretto è interventi assistiti con gli animali regolamentati da linee guida nazionali recepite dalla regione Piemonte un paio d'anni fa grazie passiamo la parola alla nostra veterinaria quando parte l'educazione di un cane quando si inizia comunque a dare delle linee anche al cane affinché possa affiancare una terapia o comunque una persona beh diciamo che prima cominciamo meglio è tendenzialmente se sappiamo di prendere un cucciolo e abbiamo già anche a disposizione la mamma possiamo già fare dei lavori durante la gravidanza quindi sia sulla mamma sia su ciò che la mamma trasferisce al cucciolo altrimenti il prima possibile nell'età dell'imprinting del cane quindi i primi diciamo 4-5 mesi sono il periodo spugna per il cane e più riusciamo a fornire esperienze positive e più il cane è prosociale curioso e diciamo istintivo verso nuove esperienze e più quel cane porterà poi spontaneamente spontaneamente il suo sé nella relazione con il fruitore perché diventa speciale per quella persona speciale benissimo amici e amiche di Valonvrite per oggi è tutto presentiamo anche l'Uva ah ecco qua hai qualcosa da dire? no ma lei basta la presenza si è nera ci va un po' di però e grazie arrivederci ciao